Salve a tutti, buon tutto a tutti. Allora, volevo dire con questo video di tre minuti che la diversità nel proporre i lavori come faccio io, non deve far paura. Non deve far paura. Non deve... Non dovete cominciare a dire eh, io in network marketing lo faccio che faccio i corsi, eh, le videoconferenze, queste cose qua. Ma quella è teoria. Lì spiegate solo la teoria. Cioè non spiegate la pratica, non fate vedere proprio come funziona un certo lavoro. Invece io nei video che faccio io ne faccio uno per ogni lavoro che propongo ma semplice da capire in modo che le persone intuiscono subito di cosa si tratta. Imparano subito. No, fargli perdere tempo con i corsi, parte uno, parte due, parte tre. Ma la gente non ha voglia di stare a... a sentire sempre le parti dei lavori. Cioè, io faccio in un altro modo. Però non devo far paura. Ma se non vedete i video tutoriale che faccio io non potete capire. Non potete capire come ragiono io. Non potete mai capire. E poi dopo non vi lamentate se vi blocco. Perché io sono fatta così. Te lo spiego una volta. Te lo spiego due volte. Te lo spiego tre volte le cose come devi fare. Che devi guardare i video. Dico in generale a tutti. Cioè... Però dopo c'è una... Cioè si arrabbia. Perché perché è così. Perché vede che non che non c'ha non c'ha la soddisfazione che vuole una persona. E poi dopo dopo mi dice che non non offendete. Invece mi offendete. E dopo mi chiedete scusa pure mi chiedete pure perdono. Mi chiedete. Le scuse si devono meritare. E per meritare bisogna guardare i video che faccio io. I lavori che faccio io. Online. Quelli che propongo io. Ecco. Perché è così che si fa con me. Non si non si viene a proporre i lavori vostri a me. Se prima non mi fate guadagnare con quello che propongo io. Ecco. Ciao a tutti.